Ciao Melissa! Ciao! Come stai? Vieni? Sì! Profumino! Ti piace! Non l'avete dato a nessuno L'ho tenuta per me Non mi sono mai confidata neanche con le persone che mi accade Ma secondo il Book Paradise è importante che inizi a tirare fuori tutto quello che mi ha dentro Perché solo così ho la possibilità di affrontarlo invece che di soffocarlo E di te dove avremo preparare la prima cosa Questa è una cosa che non mi accade, ma non è semplice Non mi preoccupa quello che potrebbe dire il più usato, ma è questo il problema Il fatto è che non voglio sentire un gioco che non ha perso a queste cose come parlo Per troppo tempo è evitato di fare E anche per questo ciò 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 E' una cosa che mi accade Per questo voglio sentire un gioco Non è mai Grazie no Broca è un gioco Il suo condimento per le spezie è molto buono E come? Non è così Grazie Grazie Grazie